E si ragazzi sono entrato nei mates Bella a tutti ragazzi sono Arditti e oggi siamo ritornati in una nuova parodia Anche se è la prima parodia che faccio però La parodia è sono entrato nei mates Proprio in realtà il video è così Quindi ora lo andiamo a vedere Però prima mi raccomando lasciate tanti bel like Cerchiamo di superare i 120 mi piace non fate nabbi E vi ricordo che se lasciate like vi arrivano questi qui a casa Quindi lasciate like e vi arriverò 5 euro a casa dopo un minuto Quindi lasciate like Possiamo partire quindi mettiamoci le... Questa qui non è diciamo la solita parodia dove io mando il video e poi stoppo e parlo io No proprio io vedo il video mentre sto con voi Vai così vediamo eh Ok Ha già registrato ma veramente Ma veramente Ok vabbè intanto se ne va senza neanche un taglio Vai vai Chiudi la porta neanche un taglio amico mio vai Cosa? La risposta è no Bella ragazzi e bello di questo nuovissimo video di... Ovviamente Ovviamente Silenzio totale ovviamente Di un nuovo video Ma dai Oggi praticamente andremo Eh A vedere A vedere Come? Come? Eh sì però Ma puoi fare una parola tuttuna No eh Devi per forza staccare Dai Siamo venuti qui Che praticamente non c'entra niente Ma che cazzo stai dicendo Ma che cazzo stai dicendo Allora cosa minchia stai dicendo Oggi vi faccio vedere No vabbè in realtà non c'entra niente quello che vi sto dicendo E come i miei compagni hanno fatto delle domande Eh Che domande? Che domande? Che domande? E non c'entra niente Eh E non c'entra niente Come no? Come i miei compagni hanno fatto un gruppo a scuola Ah un gruppo E l'hanno chiamato I men Ah addirittura In cui uno è Stay In cui uno è Stepney Eh Uno è Surra Uno è Surri Ah parola di tua Uno è Surri Oh bravo Dai Dai Sta zitto E' un Favij Che ovviamente sono io Ah ah sei tu Favij Quindi ragazzi stiamo vedendo Favij Ma che piacere Per finta sono i play Ah per finta Per finta Ah per finta No non sono io Favij No no Poi come vuoi tu Tu sei Favij Io non sei Favij Me lo dici? Cosa? Comunque Comunque Con la canzone che hanno fatto I men Eh Che canzone hanno fatto? Vediamo un po' Vediamo la canzone che hanno fatto Eh Eh Comunque non la stiamo vedendo la canzone La stiamo solamente sentendo Visto che prima tu avevi detto La vediamo eh Che faccia fa? Ma guardate che faccia Guardate che faccia Per registrare tutti i video Sono i stavi tu Vorrei fermarvi di posare Guardare la tv Anche se il merito vostro Che oggi sono qui Non ho nemmeno tempo Per fare la bimba Ma non so E inizio Dai Amici Con Bertina Che vai Caricali Ma Sei soddisfatto No Sei felice Ma che cazzo Vuoi? Non ti diverti Lo sto capendo un cazzo Andiamo avanti ragazzi Comunque Andiamo avanti su Vabbè si è normale Io non mi permetterei mai ragazzi Cioè Ma perché? Ragazzi Cioè io Alessia parlando di miei compagni Parola Io non mi permetterei mai Di fare una cosa del genere Perché? Lo so ragazzi Cioè Lo so Antonio Che tu sei Stepney Che cazzo Antonio non è Stepney Stepney si chiama Stefano Non Antonio Oh mio dio Ma Cioè Se vuoi me Nei mates Cioè Dirmelo Non ti sto dando la colpa a te Dico va Ma appunto Ma se vuoi Ma io non mi permetterei mai Perché Ah non Non si permetterà mai Cioè Se vuoi farlo entrare Basta che glielo dici Ti senti Tu vuoi entrare nei mates Si Entro nei mates Però lui non si permetterà mai E non so È un gruppo già formato È un gruppo già formato Io non voglio che Sei felice sei Che cazzo è Sacca Chi è Sacca Ma me lo dici Chi cazzo è Sacca Chi sta parlando Chi è Sacca Sacca Ora non so se volevo dire Sacca Sacca Non so Un suo amico Che cazzo ne so Oppure Sascha Sascha Sacca Punto Questa No da sola parte No vabbè amico mio Da sola parte la canzone Ma come si fa Come si fa Ah Ah Non è possibile Ancora Vabbè Eh niente ragazzi Rispondiamo A questa domanda Perché io non mi permetterei mai Un gruppo già Abbiamo capito Abbiamo capito Che tu non ti permetterei L'hai detto 500 volte Tu non ti permetterei mai Perché un gruppo Già formato E si è capito E che cosa Proprio Questi c'entra Ma il pub Però se tu mi vuoi far entrare Fammi entrare pure Ma infatti Infatti Vabbè Eh no no Ma non Stai tra Tra l'altro Il fermo immagine È bellissimo Quindi se un giorno Stepney viene a casa tua Toc toc Chi è Ciao Sono Stepney Vuoi entrare nei mates Mortacci te pippo Non so Non so Se hai dei dubbi Commenta Ah vabbè Sì No no Stepney Se hai dei dubbi Commenta Non esitare a commentare Devi assolutamente commentare Io non Non sto facendo Un po' di niente No ma fai bene Fai bene Dimmi se posso portare Una parodia Di Terri Nets Giusto Eh Dimmelo Dimmelo Nei commenti Dimmelo Vi iscrivate ragazzi Perché io Iscrivetevi 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 al mio canale Iscrivetevi Spero che vi iscrivate ragazzi Ragazzi Questo video finisce qui Spero che mi sia piacente È grande E vi salutiamo Con Lupin Questo video Lo dovevo fare Pone Ma volevo fare l'intro di Stepney Scusami Lì L'outro No l'intro L'outro Pone Pone Quindi signore Questo video può finire qui Abbiamo visto che comunque Sono entrato nei mates Anche se non mi permetterei mai Però sono entrato nei mates Quindi Stepney Mi raccomando Se stai guardando questo video Commenta E dimmi se posso entrare nei mates Se il video vi è piaciuto lasciare tanti I bel like Un commento Iscrivetevi al canale Se ancora non avete fatto E la posso mostrare di te E ciao Oppure PORTI So good to be back 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 So good to be back